Buona domenica, Ministro. Come sta? Buona domenica a tutti voi. Sempre qui al lavoro, al Ministero. Ho letto oggi, stamattina, un'intervista sul quotidiano La Stampa, dove la giornalista comincia con un ministro molto stanco, molto provato, lontano da casa, dalla sua famiglia. È così? È chiaro che è stato un anno difficilissimo, sarebbe folle non ammetterlo. È stato un anno, credo, difficile per tutto il Paese, per ciascuno dei nostri concittadini. In modo particolare mi faccia sempre dire grazie ai nostri operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, a chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, ma è stata durissima per tutti. e però vediamo che oggi abbiamo nuovi strumenti. Ecco, io penso che dobbiamo guardare al futuro con ragionata fiducia. È ancora dura, ma ci sono le condizioni, soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione, per pensare a settimane che verranno, che saranno migliori di quelle che abbiamo trascorso finora. Ecco, quindi voglio dare un messaggio comunque di ragionata fiducia, di incoraggiamento. Ne abbiamo bisogno tutti. Guardi, Ministro, devo dire che il popolo italiano ha dimostrato di essere un popolo forte, generoso. Adesso veramente cominciamo ad essere un po' stanchi tutti quanti. Siamo molto provati, per cui abbiamo bisogno proprio di iniezioni, di positività. Dobbiamo vedere tutti quanti uniti insieme che la luce arriverà tra poco, che la svolta tra poco ci sarà. Lei però adesso ha ringraziato ovviamente tutto il personale sanitario, ma è notizia di adesso, e la vado a leggere, perché il mio amico Ferzan Osbetech, che dopo sarà ospite qui da noi a Domenica Inn, mi ha mandato questo messaggio e mi dice, adesso è ufficiale, il personale sanitario italiano è ufficialmente candidato al premio Nobel per la pace 2021. Oslo ha dato il benestare. Allora, io mentre lo leggo mi vengono i brividi, e questa è una bellissima notizia, bellissima, Ministro. Sì, sono le donne e gli uomini del nostro servizio sanitario nazionale. A me non è mai piaciuto usare la parola eroe, perché penso che poi in realtà queste persone abbiano semplicemente fatto il loro dovere fino in fondo, dalla mattina alla sera, senza risparmiarsi un istante. Sono persone che hanno svolto un ruolo incredibile, dobbiamo ringraziarle ogni giorno, e che continuano a farlo, perché negli ospedali c'è ancora tantissima pressione, sono tanti i contagiati, sono tante le persone che purtroppo ancora perdono la vita. Quindi io credo che davvero tutti in questo anno così complicato abbiano capito quanto conti avere un servizio sanitario nazionale all'altezza. Un servizio sanitario nazionale che si prende cura di tutti, che non fa alcuna differenza, perché se una persona sta male non conta quanti soldi ha, di che regione è, non conta nulla, ma ha diritto ad essere curato. Questo prevede la nostra Costituzione, che è costruita su quest'idea di universalità, cioè se stai male devi essere curato, tu sei un individuo e devi essere curato. E le donne e gli uomini del servizio sanitario nazionale sono davvero stati i protagonisti di questa stagione. Però dobbiamo essere coerenti e quindi investire. Papa Francesco ha detto una frase bellissima, che io ricordo sempre, che mi rimbomba in testa tutti i giorni. Peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Noi non dobbiamo sprecarla questa crisi. E non sprecarla significa per me, prima di tutto, investire sul servizio sanitario nazionale e sulle donne e gli uomini che lavorano tutti i giorni. Perché ringraziarli è giusto, ma poi bisogna investire su di loro, su queste donne e su questi uomini. Perché è il modo vero, più concreto, poi di ringraziarli. Allora, sono assolutamente d'accordo con lei, Ministro. Però, come ricomincia, come riparte la campagna dei vaccini? Perché c'è stato il fermo? Per AstraZeneca, per tre giorni sono state interrotte le vaccinazioni e questo in qualche maniera ha creato preoccupazione per quanto riguarda le persone che si devono vaccinare. Ecco, come ricomincia, come è ripartita la campagna vaccinale e come possiamo fare, lei come può fare per rassicurare, rassicurare chi è spaventato. Perché qualcuno, anche se devo dire, le adesioni ci sono state e sono pochi quelli che non sono andati all'appuntamento perché le vaccinazioni sono ripartite e sono ricominciate. Sono pochi, però alcuni non si sono presentati. Guardi, in queste ore abbiamo ripreso la vaccinazione anche con AstraZeneca dopo una sospensione che è stata condivisa con i principali paesi europei. per ragioni di natura solo precauzionale. L'Agenzia Europea del Medicinali ha dato conferma che anche il vaccino di AstraZeneca è efficace e sicuro e già da 48 ore esatte le vaccinazioni sono riprese in tutta Italia anche con il vaccino AstraZeneca. E la risposta è incoraggiante. Noi stiamo monitorando ora dopo ora ma la risposta è buona. La stragrande maggioranza delle persone è veramente consapevole che questo è l'unico strumento che abbiamo se vogliamo uscire da questa stagione così drammatica. Ecco, io penso che questo sia il punto. Dopodiché continueremo a monitorare quando un'istituzione decide di sospendere anche se per poche ore la somministrazione di un farmaco e perché ha bisogno di fare ulteriori approfondimenti. In questo caso cosa era avvenuto? Era avvenuto che l'agenzia dei vaccini tedesca il Paul Henrich Institute che è un istituto molto prestigioso aveva segnalato alcuni casi da verificare e l'agenzia europea si è presa 48 ore per verificare. I principali paesi europei hanno deciso in quelle 48 ore di fermarsi in attesa di questo giudizio. Il giudizio dell'agenzia europea è stato molto chiaro e molto netto. Ci dice che i vaccini sono tutti efficaci e sicuri e quindi dobbiamo riprendere. Dobbiamo riprendere col massimo dell'energia della capacità di essere veloci perché davvero il vaccino è la vera chiave per chiudere questa stagione. E io penso che gli italiani che come lei diceva prima sono stati straordinari in questi mesi così difficili anche ora sono ben consapevoli che se vogliamo tornare a vivere più liberi se vogliamo chiudere questa stagione di restrizioni che non piace a nessuno e che abbiamo tutti vissuto con grandissimo disagio perché ha rotto le relazioni tra le persone che alla fine sono le cose più importanti che ci sono e il vaccino è veramente la soluzione. Quindi io voglio dirlo anche qui col massimo della forza le istituzioni ci sono e devono controllare. Avere un meccanismo di sorveglianza che se necessario ferma le cose è uno degli elementi che deve farci stare più tranquilli. Ci sono centinaia e centinaia di persone che tutti i giorni sono a lavoro per questo e lo fanno per la nostra sicurezza quindi dobbiamo essere sicuri al 100% che se i vaccini sono somministrati nei nostri presidi è perché sono davvero efficaci e sicuri. Per cui riparte AstraZeneca dovrebbero arrivare adesso tantissime dosi. Ministro, come si spiega però il numero ancora così alto di contagi perché sono tanti e come si spiega ancora così tanti decessi, tanti morti? Ecco questa è una domanda che ci facciamo adesso peraltro l'Italia è quasi tutta zona rossa diciamo anche la Sardegna da bianca da domani diventerà arancione. Come si spiega questo numero così alto di contagi e di decessi? Sono le varianti? Eh sì, la grande novità purtroppo e il grande problema delle ultime settimane è stata la diffusione delle varianti e in modo particolare della variante inglese che è stata conosciuta per la prima volta in una provincia sud-est di Londra, il Kent. Questa variante purtroppo ha una capacità di diffusione più significativa. I nostri scienziati, l'Istituto Superiore di Sanità hanno segnalato che si diffonde col 35-40% di velocità in più e quindi è chiaro che è una variante che ha fatto immediatamente alzare la curva nei principali paesi europei e anche in Italia e quando aumenta il numero di persone che sono contagiate in maniera proporzionale aumentano anche i casi severi cioè i casi gravi, le persone che vanno in terapia intensiva e purtroppo anche quelli che perdono la vita. Per questo siamo stati costretti ad assumere misure ancora significative, rigorose per questo purtroppo ancora una parte larga del paese è in area rossa in questi giorni ed è costretta a fare sacrifici e per queste stesse ragioni dobbiamo correre con le vaccinazioni perché nei prossimi giorni, io ne sono sicuro potremo avere un duplice effetto da un lato l'effetto delle misure perché stare in area rossa aiuta a contenere la curva ci sono territori del nostro paese che sono già in area rossa da diverse settimane e dove già vediamo dei primi segnali importanti di una curva che si piega dal verso giusto e dall'altro lato la soluzione strutturale resta il vaccino e anche qui me lo faccio a dire nelle categorie dove noi abbiamo iniziato a vaccinare i numeri sono molto molto incoraggianti penso ancora una volta al personale sanitario noi abbiamo scelto di partire proprio da loro dai nostri medici, dai nostri infermieri da chi è in prima linea nella battaglia quotidiana contro il Covid e i dati che abbiamo è che dentro quel pezzo di società italiana, cioè gli operatori sanitari la curva del contagio è crollata in maniera molto significativa nell'RSA, nei luoghi dove ci sono tanti anziani dove tantissimi purtroppo hanno perso la vita noi abbiamo fatto una vaccinazione massiva e abbiamo oggi numeri del contagio che sono molto molto più contenuti quindi abbiamo una risposta vera sul campo che ci dice che il vaccino è la vera soluzione su cui dobbiamo continuare ad insistere e ci consentirà, io spero in un tempo non troppo lungo anche di ridurre le misure che purtroppo in questo momento sono ancora indispensabili Ministro, quali saranno adesso i nuovi vaccini che arriveranno? Johnson & Johnson dovrebbe tra due settimane due o tre settimane quali sono gli altri vaccini? Sì, allora in questo momento in Italia ci sono tre vaccini che vengono somministrati che sono Pfizer e Moderna e AstraZeneca un quarto è stato già approvato sia dall'EMA che dall'AIFA la nostra agenzia nazionale del vaccino di Johnson & Johnson che è un vaccino importante perché è il primo che arriva che consente l'immunità con una sola dose quindi non c'è bisogno di tornare due volte di dover avere due somministrazioni a distanza di un lasso di tempo ma una sola dose consente l'immunizzazione questo è molto importante ci aiuterà anche sul piano organizzativo sul piano logistico per la nostra macchina che abbiamo messo in campo e poi ancora dentro questo secondo trimestre che sta per iniziare dell'anno verrà approvato, ci auguriamo, anche il vaccino Curevac e poi mi permetta di dirlo va avanti anche una sperimentazione importante su un vaccino che è tutto italiano quello di Reitera è una realtà che è stata costruita da nostri scienziati da nostri imprenditori e su cui noi vogliamo continuare ad investire per essere sempre più autonomi da qui ai prossimi mesi per arrivare con il vaccino in profondità si parla anche che il vaccino potrebbe arrivare in farmacia in America c'è già in altri paesi già c'è ma noi potremo perché sarebbe molto più comodo per tutti quanti noi Sì, proprio venerdì abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri una norma che consentirà le vaccinazioni anche in farmacia le farmacie italiane sono 19.000 quindi hanno una grande forza di capillarità non c'è angolo del paese non c'è quasi strada delle grandi città o anche di comunità più piccole dove non ci sia una farmacia quindi noi useremo anche le farmacie appena avremo un numero di dosi che sarà più significativo e mi faccia ricordare anche che con ultimi accordi che abbiamo fatto mettiamo in campo tante altre persone a vaccinare naturalmente i medici di medicina generale che sono il punto di riferimento fondamentale sul territorio del nostro servizio sanitario nazionale i medici di famiglia le persone hanno un rapporto spesso di fiducia col proprio medico di famiglia ma abbiamo avuto disponibilità importanti dai pediatri di libera scelta che per esempio hanno dato la disponibilità a vaccinare i genitori dei figli fragili oggi in questo momento non abbiamo purtroppo ancora approvati vaccini per le generazioni in età pediatrica però i pediatrici hanno dato la disponibilità a vaccinare i genitori dei più piccoli che hanno elementi di fragilità penso che questa sia una cosa bella abbiamo fatto un'intesa con gli specializzandi con i medici specialisti ambulatoriali c'è un'intesa che è stata costruita anche con gli odontoiatri quindi ci si potrà vaccinare anche nei loro studi e poi abbiamo fatto una norma che consentirà anche agli infermieri del servizio sanitario nazionale in via straordinaria di poter partecipare fuori dall'orario di lavoro a questa campagna insomma mettiamo in campo tutte le energie possibili per correre, correre e provare a realizzare nel più breve tempo possibile questa campagna di vaccinazione che lo ribadisco è la vera chiave per uscire da questa fase così difficile come verrà nelle farmacie? perché quando uno va a fare il vaccino deve stare un quarto d'ora l'abbiamo visto un po' da tutte le parti aspettare se magari ci possono essere delle reazioni ecco, in farmacia ci sarà un medico? oppure sarà... i farmacisti verranno formati i farmacisti dovranno fare un corso di formazione molto accorto che è costruito attraverso l'Istituto Superiore di Sanità che già oggi ha formato le persone che stanno svolgendo l'attività di vaccinazione quindi i farmacisti avranno una formazione apposita e dovranno chiaramente avere degli spazi che consentiranno una vaccinazione in piena sicurezza e anche quei 15 minuti di attesa a cui prima si faceva riferimento noi mettiamo in campo tutte le energie possibili per essere più veloci e più capillari ma dobbiamo farlo sempre nel rispetto dei massimi standard di sicurezza certo senta, Ministro Generale ieri Figliuolo si è vaccinato con AstraZeneca ha voluto dimostrare credo che sia una grande dimostrazione da parte di una figura istituzionale che dice io mi vaccino con AstraZeneca lei è ancora molto giovane credo che ci vorrà ancora un po' di tempo lei lo farà il vaccino AstraZeneca? sarebbe una bella dimostrazione da parte sua sicuramente io sono io sono disponibile intanto ringrazio il generale Figliuolo il capo della protezione civile Curcio per un gesto che in questo momento è particolarmente utile e dà un messaggio di fiducia chiaramente io sono disponibile in qualsiasi momento aspetterò il mio turno io ho 42 anni anche se inizio ad avere qualche capello bianco dopo questo anno così complicato ma chiaramente al mio turno sarò prontissimo a fare il vaccino con AstraZeneca Ministro, come mai in alcune regioni ad esempio il Lazio è molto avanti già da ieri notte i settantenni si possono prenotare per fare il vaccino per cui qui la regione Lazio devo dire che insomma è una dimostrazione di grande efficienza addirittura ad aprile i sessantenni come mai invece in alcune regioni d'Italia non so la Toscana la Lombardia ha invece queste problematiche che sono molto in ritardo rispetto ad altre regioni come se lo spiega? Noi stiamo lavorando con tutte le regioni per accelerare il più possibile alcune sono partite più velocemente altre stanno recuperando però il vero problema nella prima fase è stato il numero limitato di vaccini a nostra disposizione ora finalmente le cose cambiano perché c'è una disponibilità molto significativa nel secondo trimestre dell'anno noi ci aspettiamo fino a 50 milioni di dosi di cui 7 milioni sono di Johnson & Johnson quindi monodose ne basterà una sola per avere l'immunità e nel terzo trimestre ci aspettiamo fino a 80 milioni di dosi quindi ci sono le condizioni per accelerare e dobbiamo superare le differenze tra territori devono correre tutti e tutti devono essere messi nella condizione nel più breve tempo possibile di dare le risposte giuste alle persone che aspettano il vaccino quindi il governo lavora incessantemente per rendere anche omogenei gli interventi sul piano regionale in ogni regione deve potersi fare questa vaccinazione nel più breve tempo possibile Ministro voglio mandare un filmato del nostro presidente Mario Draghi a Bergamo e lo vediamo insieme oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza vorrei tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza lo Stato lo Stato c'è e ci sarà siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato solo così questo bosco della memoria sarà anche il luogo simbolo del nostro riscatto il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti ecco un bellissimo messaggio da parte del nostro presidente ancora due domande Ministro abbiamo sentito proprio il generale Figliuolo dire nessuna dose deve essere sprecata se avanzano dosi di amore paradosso al primo che passa però è molto importante che ci siano che non ci siano dosi sprecate e so che ci sono persone in panchina definite in panchina che aspettano la sera e magari avanza qualche dose ecco è molto importante che tutte le dosi vengano date a tutti Sì questo è il nostro obiettivo noi chiaramente vogliamo lavorare perché nessuno che ha prenotato che è stato chiamato dica di no perché è un'occasione importante perduta di mettersi in sicurezza e vaccinando se stessi si aiuta sicuramente la propria persona ma si aiuta tutta la società si aiutano anche gli altri quindi vaccinarsi è un atto per se stessi ma anche un grande atto di generosità perché si dà una mano a tutti gli altri perché ridurre le possibilità di contagio è una opportunità straordinaria che non va dispersa e chiaramente noi non possiamo permetterci di sprecare neanche una dose e quindi è chiaro che dobbiamo costruire abbiamo lavorato per costruire una modalità che consenta a nessuna dose di essere sprecata e ogni dose deve essere utilizzata perché ogni persona in più che ha una dose somministrata significa fare un passo avanti verso il nostro obiettivo e cioè uscire da questa stagione così difficile e raggiungere quel livello di immunità nel nostro paese che ci consentirà finalmente di aprire una fase diversa e soprattutto non avere più l'intasamento negli ospedali terapie intensive e dare anche la possibilità di pensare ad altre patologie perché è evidente che adesso c'è il covid che ha il sopravvento su tutto ma ci sono tanti malati che aspettano interventi per cui bisogna dare la possibilità anche di avere delle attenzioni e curare e intervenire anche con gli altri pazienti ministro quando quando usciremo da questo inferno da questo incubo che estate secondo lei che estate avremo avremo un'estate in segna di un po' di libertà ma io io sono ottimista e in questi mesi sono stato sempre quello più duro che ha chiesto anche misure rigorose che è stato costretto sempre a dire la verità ma io l'ho fatto perché sono realista perché vedevo una curva ancora complicata da porre sotto controllo io credo che ora ci siano le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane questo è ancora un momento difficile perché la curva del contagio è molto alta dobbiamo conservare tutte le precauzioni anche le zone rosse le zone arancioni e quindi le limitazioni che ne conseguono sono indispensabili ma col passare delle settimane con l'aumentare del numero di persone che avranno preso queste dosi di vaccino la situazione andrà gradualmente a migliorare e io sono convinto che già alla fine della primavera e poi durante il corso dell'estate vedremo un miglioramento molto significativo quindi io penso che faremo un'estate che sarà diversa rispetto a queste giornate di oggi che sono purtroppo ancora giornate piene di pesanti restrizioni poi è chiaro che ci sarà bisogno ancora di una gradualità non ci sarà un giorno X in cui tutto scompare e si torna semplicemente alla vita di prima penso che avremo bisogno di gradualità ma che con l'arrivo del vaccino i problemi più grandi possono essere superati e per me il problema più grande ha a che fare con le persone che perdono la vita e noi in questo momento stiamo correndo il più possibile sulle persone che hanno più di 80 anni a vaccinare chi ha più di 80 anni voglio ricordarlo 6 persone su 10 che hanno perso la vita avevano più di 80 anni e vaccinare queste persone significa salvargli la vita e io credo che se noi facciamo questa accelerazione ci sono le condizioni nelle prossime settimane per farlo avremo messo in sicurezza e più fragili e a quel punto non avremo più gli ospedali pieni non avremo più le terapie intensive in sofferenza e avremo salvato la vita tantissime persone e io credo che da qui alla fine dell'estate saremo nelle condizioni di avere un quadro completamente diverso rispetto a quello che viviamo ancora in queste giornate bisogna arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno questo è quello che voi avete detto per cui dobbiamo dobbiamo arrivarci un'ultima domanda ministro lei ha detto ritorneremo alla normalità prima di ritornare alla normalità questa sua parola mi ha non so mi ha comunicato una specie di stretta al cuore forse perché siamo tutti così provati abbiamo perso amici cari ma ritorneremo alla normalità saremo mai più quelli che eravamo prima ma normalità è una parola su cui si potrebbe fare una lunga discussione io penso che dobbiamo superare questa stagione di restrizioni così complicate e le condizioni ora grazie alla campagna di vaccinazione nel giro di un po' di tempo di un tempo non troppo lungo ci saranno poi io penso che la lezione di questi anni non dovremo dimenticarla mai ed è una lezione che ci dice alcune cose fondamentali io prima ascoltavo bene con attenzione le parole del presidente Draghi tante volte il presidente della Repubblica Mattarella è tornato su questi temi ecco per me c'è un punto normalità non deve diventare dimenticare l'importanza del servizio sanitario nazionale io vorrei che questo fosse il vero lascito di questa crisi e cioè capire che dobbiamo investire di più sul comparto salute per troppo tempo si sono fatti tagli anziché investimenti questo è invece il momento di ricominciare a mettere tutte le risorse che possiamo sulla cosa più preziosa che abbiamo che è il nostro servizio sanitario nazionale io penso che questo sia fondamentale per tornare anche a guardare con maggiore fiducia al futuro e costruire diciamo così un paese più forte perché vincere la battaglia sanitaria è la vera premessa per provare a far ripartire davvero il paese cioè il paese ripartirà davvero soltanto quando questa battaglia l'avremo vinta e io penso che ora ci siano le condizioni per guardare con maggiore fiducia nei prossimi mesi a questo traguardo la ringrazio ministro le sue parole sono davvero un'iniezione di fiducia a tutti quelli che ci stanno guardando io la ringrazio le mando anche un bacio mi permetto di mandarne un bacio io sono qua noi andiamo avanti fino ai primi di giugno e spero di riaverla ospite per dare belle notizie alle persone che ci guardano grazie ministro buon lavoro mi raccomando eh 500.000 al giorno grazie infinite grazie a lei buon lavoro e grazie anche del vostro servizio a presto grazie grazie buon lavoro